Abbiamo lavorato negli ultimi 4-5 mesi perché questi spazi di circa 100 metri ci sono stati forniti dal comune di Pesaro, che ringraziamo naturalmente, perché fino ad oggi la nostra sede era ubicata dal precedente presidente del nostro club. Però avevamo bisogno di allargarci, avevamo bisogno soprattutto di esporre tutte queste cose molto interessanti di Dorino Serafini. Il nostro club è intitolato al campione pesarese Dorino Serafini, un campione di moto e di auto che dal 31-32 ha iniziato a correre con le moto, prima con la Benelli, poi con la MM di Bologna, poi ha corso con la Bianchi, con la MM di Bologna e con la Bianchi è diventato a suo tempo campione italiano. Poi è stato assunto dalla Gilera e correva nella classe 500 con la Gilera a quattro cilindri col compressore e ha vinto il campionato d'Europa nel 1939, quando ancora non c'era il campionato del mondo. Poi è scoppiata la guerra, ma dopo la guerra Dorino Serafini ha iniziato a correre con le auto, quindi ha corso con la Maserati, ha corso con la Osca, ha corso con la Fredernash e ha corso con la Elei. E poi è stato acquisito da Enzo Ferrari e il trio allora della Ferrari erano Serafini, Ascari e Villoresi. E noi qui abbiamo tantissime cose, coppe, che sono di proprietà degli eredi Serafini, che però ce le hanno concesse e noi siamo praticamente chi espone queste cose e le conserva nel modo corretto. Abbiamo oltre alle coppe una serie di immagini fotografiche, abbiamo molti oggetti, molti memorabilia e quindi siamo contentissimi di poterli esporre in questa sede che ci consente di far vedere a Pesaro chi era questo campione pesarese.